Io vi ho portato invece qualcosa con l'orchestra che siamo qui, un pezzo del paese loro di Grafine Maritza, di Kalman Imre, che si chiama nell'originale Nemhege o Imadom Apestinochet, che significa, in realtà, le bellissime donne di Budapest, ma per avere un successo più grande quando è arrivato all'idea che sono le donne di Vienna che sono quelle più belle, quindi è diventato un grande successo e aveva ragione, certamente. Grafine Maritza Grafine Maritza Grafine Maritza Grazie per la visione 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 Grazie per la visione